in diretta da Sanremo Diodato benvenuto grazie ciao immagino tu sia contentissimo per la serata di venerdì sei passato tra i primi quattro giovani quindi i due che accederanno alla finale tra questi ci sei tu tantissimo tantissimo anche non solo per me per anche per tutti coloro sono qui con me che condividono con me questa questa splendida esperienza davvero meravigliosa anche perché poi nel gruppo delle nuove proposte si è creata veramente un'armonia siamo tutti amici siamo condividendo questa questa incredibile avventura che ci sta capitando noi veniamo molti di loro come me vengono da da un percorso anche abbastanza lungo e ci siamo ritrovati qui al festival è abbastanza particolare quindi questa vicinanza ci aiuta anche ad affrontarla questa questa situazione come è stata come è stato calcare insomma il palco ieri sera a differenza delle prove come è stata l'emozione è stata incredibile non me l'aspettavo non me l'aspettavo così perché comunque il palco dell'ariston è sia il palco di un teatro però hai proprio la sensazione di andare a suonare in un altrove non ben definito perché quella lucetta rossa significa milioni di persone che ti stanno guardando quindi entri proprio in casa di milioni di italiani è un'emozione fortissima e io ho cercato di lasciarla uscire questa questa emozione spero poi sia arrivata a tante a tante persone che mi hanno ascoltato poi sanremo tu l'hai definito un punto di arrivo ma un punto di partenza sì lo considero un piccolo premio e qui torniamo a quella famiglia che mi abbraccia già da tempo un piccolo premio per tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi in questi anni e poi spero sia anche un punto di partenza per per intensificare ancora di più l'attività musicale cioè fare tanti live portare la mia musica il più possibile in giro per per l'italia e spero appunto primavera estate di suonare tantissimo poi magari anche l'autunno e poi cominciare a registrare qualcosa di nuovo è uscita anche è uscito il tuo album in una nuova versione quindi un packaging come si dice una nuova edizione che proprio contiene anche babilonia sì ci sembrava giusto ci sembrava che questo disco avesse ancora tanto da dire soprattutto non era poi conosciutissimo dal dal grande pubblico quindi ci sembrava anche un'ottima opportunità per per far ascoltare le cose che abbiamo fatto che abbiamo fatto in questo poi è uscito ad aprile scorso quindi non tantissimo tempo fa ed è un disco che adesso si chiude con babilonia e anche proprio voler ripercorrere un cammino no e magari far sì che babilonia diventi un filo un conduttore per un per un prossimo per un prossimo disco tra i tuoi miti ci sono i beatles eh sì ieri è stato incredibile perché mi è stato fatto ho ricevuto un regalo incredibile nel senso che proprio prima di salire sul palco rufus ha cantato across the universe sembrava veramente un uno scherzo del del destino una cosa pazzesca che mi ha caricato di tante energia mi ha commosso tantissimo infatti eravamo lì dietro con lo schermo con tutta la band abbracciati è un pezzo che suoniamo tantissimo anche nei live e che forse il pezzo di beatles che ho cantato di più nella nella in vita mia quindi mi sembrava incredibile questa cosa qui e siamo saliti sul palco con con una strana consapevolezza come se stesse accadendo tutto per per un per un motivo poi magari il motivo non c'è però tu dici tante coincidenze sì è stato veramente incredibile ringrazio veramente non so cosa si ringrazia in questi casi la vita per avermi fatto questo regalo è stato meraviglioso da ultimo ti chiedo come ti stai preparando mentalmente fisicamente anche alla finale perché qui è un circolo si continua a girare a rilasciare interviste spero di riposare di dormire e riuscire a dormire perché solo tre giorni che non dormo e anche per la voce è importante quindi oltretutto canto un pezzo molto difficile vocalmente quindi dovrei dormire un po in realtà non riusciamo a fermarci mai però ben venga e ci riposeremo più in là quindi io ti auguro in bocca al lupo non dico altro guarda mi hanno detto che ormai i lupi sono in estinzione quindi evitiamo di farli crepare però abbiamo anche detto che è di buon auspicio perché in realtà rappresentano la mamma che prende i cuccioli in bocca per spostarli nel rifugio comunque quindi non non diciamo non facciamolo crepare questo lupo grazie per per il tuo per il tuo augurio grazie a te dio dato ciao